Mi chiamo Aurora e il mio sogno è quello di fare l'astronauta. Questa passione per lo spazio è nata quando ero abbastanza piccola. Avevo iniziato a fare delle ricerche e a leggere qualche libro, come ad esempio quel che mi rigalava mio padre, e a guardare alcuni film. Alcune volte mi capita di sognare che io sono nello spazio dove volo e comando io la vincella spaziale. Una persona che mi stimola molto è mio padre, che anche lui da piccolo era un appassionato dello spazio. Una volta mi ha detto una cosa sui sogni, che anche se qualcuno ti impedisce di sognare o che cerca di impedirtelo, tu devi continuare a crederci senza dare ascolto a queste persone. Una persona che è amante dello spazio deve essere curiosa, intelligente, ma che poi ogni tre per due comunque continua a sognare. Un credente sui sogni. Io continuerò di sicuro a sognare. Perché comunque è bello alcune volte non avere i piedi per terra. Grazie. Grazie.